E' migrazione d'amore, tre generazioni di donne di gioiosa marea raccontata nel film musical Un tango prima di tornare del regista Italo Zeus. Buonasera da Rai. Il musical tutto siciliano si intitola Un tango prima di tornare, l'ultima opera del regista di Piraino Italo Zeus, Antonella Gurrieri. Scorci di una Sicilia di intensa bellezza, mari di specchio e cieli di cobalto in perfetta sintonia, cuore di un'isola che appare sempre più cinematografica. La pellicola di Un tango prima di tornare di Italo Zeus scorre tra gioiosa marea e l'Interland nebbroideo. Il musical ambientato tra il 1912 e il 1950 racconta tre generazioni di donne alle prese con l'emigrazione, l'attesa e l'amore. Ma svela anche memorie e radici degli abitanti di gioiosa marea e del loro carnevale, evento che tanto li accomuna. E che nel tempo ha fatto di gioiosa marea la capitale siciliana della festa più colorata dell'anno. Un esperimento cinematografico sicuramente inusuale per questo coraggioso, quello del regista di Piraino, autore delle musiche e cosceneggiatore, presentato in anteprima nazionale a Palermo. Cast artistico e tecnico d'eccezione, a cominciare dal maestro della fotografia Daniele Cipri, vincitore di un David di Donatello. Tra gli attori David Coco, Antonella Nieri e Lucia Sardo. Un film storico e surreale in cui nel difficile ma possibile equilibrio tradizione e sogno convivono creando non poche emozioni. Grazie a tutti.